pure ammesso dalla normativa vigente. E quindi è dovere del destinatario rappresentare agli interessati la difficoltà generata da un utilizzo in parte errato dello strumento telematico garantendone allo stesso tempo l'utilizzo nei termini corretti. Di contro sarebbe errato ricevere la corrispondenza telematica incompleta, non procedere alle istrutture della stessa e non comunicarne la impossibilità al mittente, lasciando anche in tal modo decorrere infruttuosamente i termini, esponendo dunque l'amministrazione ad azioni legali che ne rallenterebbero indubbiamente l'operato. Va da ultimo ricordato come successivamente alla comunicazione, che costituisce comunque un fatto isolato, non si sono più verificati casi di corrispondenza incompleta da parte delle società concessionarie. Ed in ogni caso, qualora ciò si verificasse, la medesima direzione provvederà ad avvisare il mittente dell'errore di invio. La ringrazio. L'onorevole Paolo Coppo, la facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Grazie Presidente. Sì, sono soddisfatto della risposta perché mi sembra di aver capito che semplicemente nel fax non era nel fax. Nella circolare mandata via fax, e già qui mi permetto di sottolineare che forse sarebbe stato il caso che la direzione inviasse appunto alle società concessionarie la circolare utilizzando la PEC. E spero che in futuro sarà utilizzato quello strumento, che è sicuramente più economico e non il fax. Però mi sembra di capire dalla risposta del sottosegretario che semplicemente il messaggio non era scritto in modo completamente non ambiguo. E l'intenzione era semplicemente quella di dire che se nel messaggio, che può essere benissimo senza allegati, ma se nel testo del messaggio ci fa riferimento a degli allegati, va da sé che questi devono essere presenti. Prendo atto e sono contento del fatto che ci sia stato solo un caso isolato e non sia un caso generale. Prendo atto del fatto che appunto lo strumento verrà utilizzato e nel caso qualcuno facesse l'errore di inviare un messaggio di posta elettronica certificata che fa riferimento a degli allegati che non sono presenti, questo messaggio, il mittente verrà, solo lui, verrà informato del fatto che appunto gli allegati non ci sono e che quindi deve essere rinviato il messaggio. Devo dire che ringrazio perché il nostro timore era che la richiesta un po' strana, interpretata appunto del fatto di non inviare tutti i messaggi assolutamente con degli allegati, altrimenti non venivano presi in considerazione, aveva fatto pensare che ci fosse, a valle dell'invio dei messaggi di posta elettronica, una modalità interna di organizzazione degli uffici legata al cartaceo. Ci aveva fatto temere che in quella direzione tutta la posta elettronica certificata venisse stampata e poi venisse trattata in modo cartaceo. Ed è evidente che se fosse questa la realtà ci sarebbe in quel caso uno spreco di denaro pubblico. Ed è evidente che in quel caso le disposizioni e l'organizzazione interna degli uffici e del lavoro negli uffici andrebbe cambiata. Io spero che questo, anzi sono sicuro che questo non è, quindi sono sicuro che l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale e la completa informatizzazione dei processi avviene nel Ministero dei Trasporti. Sono felice che questa interpellanza sia stata utile a chiarire e quindi a permettere a tutte le società concessionari di continuare a utilizzare serenamente lo strumento della posta elettronica certificata, così come da codice dell'amministrazione digitale. E quindi ringrazio di nuovo il sottosegretario. La ringrazio. Passiamo ora all'interpellanza urgente 2039, onorevole Bernini ed altri, sui chiarimenti circa l'effettiva consistenza del flusso dei visitatori di Expo 2015. Prego. Onorevole Bernini per l'illustrazione. Grazie Presidente e grazie sottosegretario. Expo Milano 2015 è l'esposizione universale che ha avuto il via il primo maggio 2015 e che terminerà il 31 ottobre 2015. La manifestazione il cui incipit del 2008 è la partita come un progetto faraonico che avrebbe dovuto parlare di alimentazione sostenibile e nutrizione con il dichiarato obiettivo di promuovere e garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli.